partiti al comando lungo la corda Bonsai con all'esterno Melkart che gradatamente passa in vantaggio davanti allo stesso Bonsai poi Action Pinting con all'esterno a Coniton ed in coda Conte di Montecristo posizioni invariate dopo i primi 400 metri di corsa con Melkart che conduce davanti a Bonsai in terza posizione si mantiene Action Pinting con all'esterno a Coniton quindi in coda Conte di Montecristo Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con le posizioni invariate in vantaggio a Melkart in seconda posizione Bonsai poi Action Pinting con all'esterno a Coniton ed in coda Conte di Montecristo ben riuniti i cinque concorrenti ora affrontano la curva lungo la quale Melkart si mantiene sempre in vantaggio tallonato da Bonsai quindi Action Pinting a Coniton e Conte di Montecristo siamo ora in retta di arrivo Melkart alla corda Bonsai al suo esterno più a centropista Colito per linee interne Action Pinting ed in coda Conte di Montecristo siamo a 400 dal palo con in vantaggio Melkart nei confronti di Action Pinting più a centropista si propone a Coniton seguito da Conte di Montecristo siamo a 200 dal palo con Action Pinting che è passato nei confronti di a Coniton e Melkart all'interno nel tratto finale e in vantaggio Action Pinting ma centropista sta scattando a Coniton che sul palo passa di forza su Belkart Action Pinting vicini per il posto d'onore su Conte di Montecristo andiamo a rivedere le immagini con Herrera Sinsella e a Coniton numero due dello schieramento che degli ultimi 50 metri ha preso la meglio imponendosi a centropista mentre all'interno probabilmente Melkart difende il posto d'onore da Action Pinting ma i due sono molto molto vicini e quindi è meglio aspettare il risponso del giudice di arrivo direttamente